Quest'oggi, come avete visto anche in apertura, ci tenevamo a mandare anche un messaggio di pace. Quello che diciamo sempre è che quando oggi parliamo di innovazione, parliamo sia di tecnologia, parliamo di digitale, ma parliamo anche di cooperazione e parliamo anche di pace. Abbiamo voluto anche mandare un messaggio con la presenza di Natascia e di Anna, che potesse abbracciare il concetto di pace. Quindi ne approfitto, visto il tuo monologo meraviglioso, di chiedere un punto di vista ad Anna su tutta questa situazione. Innanzitutto mi ha davvero toccato il tuo monologo, Andrea, e ti ringrazio dal profondo del cuore. Anzi, ti chiedo di ripetere a me prima di tutto, e penso anche agli altri, il termine che hai appena pronunciato, e cioè la sua effazione al dolore, la sua effazione all'informazione. Ripeticelo, perché io credo che sia importante che le persone lo ricordino, perché hai toccato un tema fondamentale, secondo me, per il fatto che ormai sui social, appunto, prima si parlava soltanto di guerra, prima si parlava soltanto, no, c'erano gli hashtag, peace, no war, in questo momento non puoi neanche farlo, perché sembri quasi fuori dal coro. Oppure, al contrario, se fai un post nella natura o magari con un outfit, alcuni, i haters soprattutto, scrivono Ah, ma la guerra è finita? Ah, ma quindi non ti interessa più? Quindi è un accanimento totale agli argomenti, senza avere un concetto generale della cosa. Quindi, intanto, ripetici il termine, che credo sia importante. Il termine esatto è mitridatizzazione. Mitridatizzazione? Sì, ripetilo in ucraina. Sono le lingue, un po'. Mitridatizzazione, dal re mitridate, che sembra che sia a sue foe al veleno, prendendo ogni volta una piccola goccia di veleno, era terrorizzato dall'idea di essere avvelenato, e allora ogni giorno si prendeva una goccia di veleno in maniera tale che il suo corpo, una volta avvelenato, si salvasse, cosa che poi pare sia avvenuta. Vedi, questa è una cosa interessantissima. E per il resto, non posso fare altro che aggiungermi, aggregarmi al tuo discorso sulla militarizzazione. Allora, è ovvio che io sia ucraina, ed è ovvio che io abbia parlato in questi mesi di quanto la ferita e il dolore di una guerra non ci sia solo oggi, ma che si protragga nel tempo e porterà delle conseguenze a tutto il mondo. Ma soprattutto che fa male, fa male vedere il proprio popolo debilitato, distrutto da una guerra assurda, perché è una guerra fratricida. Io e Natascia siamo qui oggi, non ci conoscevamo, ma ci siamo abbracciate da subito, non ci sono pregiudizi, non c'è neanche il pensiero da parte della gente comune, quindi non dei politici, di pensare di odiarsi. Odiarsi, almeno questo è per quanto mi riguarda. Ci sono probabilmente altri pensieri, li abbiamo visti in televisione, li abbiamo sentiti, ma la pace io credo che sia al di sopra di tutto. E quindi militarizzare un paese che in questo momento sì, si sta difendendo, ma muore giorno dopo giorno, perde figli, padri, mariti ogni giorno, io credo che sia assurdo, secondo me si dovrebbe tornare ai termini moderati, bisogna assolutamente tornare alla moderazione, bisogna smettere questa guerra, bisogna secondo me da parte nostra, di tutti noi, di sopportare la pace in tutti i modi, perché sennò non finirà mai, questo è il concetto. Ci saranno sempre più armi, ci saranno sempre più fabbriche che produrranno armi, quindi sempre più business su questa cosa e quindi in parole povere non finirà mai la guerra. Scusatemi, io semplifico, ma semplifico semplicemente perché il concetto credo che sia semplice e quasi banale. Vi ricordate negli anni 90 quando c'erano i film americani che dicevano sempre che le riginette del ballo dicevano la cosa più banale del mondo e cioè la pace nel mondo? Ecco, oggi non è più banale, oggi rischiamo la terza guerra mondiale. Ognuno di noi deve pensare a quali possono essere le conseguenze delle nostre azioni domani. Grazie, concordo appieno. Natascia vuoi aggiungere qualcosa? Solo due parole, per me è molto difficile questa situazione, è davvero molto difficile, mi tocca personalmente, è davvero una sofferenza quello che abbiamo anche detto tra di noi dietro le quinte. Per me è una guerra in famiglia, reputo una guerra in famiglia perché tutti noi, e Anna mi capisce perfettamente quello che sto dicendo, siamo, si può dire misti? Perché? Vi spiego, il mio cognome è ucraino, io sono russa, sono orgogliosa della mia terra, delle mie origini, però il mio cognome è ucraino, mio papà è belorusso, per farvi capire mia sorella ha abitato in Ucraina per dieci anni dopo l'università. Conosco benissimo Kiev perché collaboro con un'associazione la quale aiuta i bambini malati di cancro a Kiev, quindi bambini ucraini, russi, insomma, di tutte nazionalità. Quindi vedere questa sofferenza, cioè vedere questa guerra tra fratelli è davvero doloroso. Perché credo che sapete che la nostra cultura è questa, per 74 anni c'era una fusione culturale, insomma, c'erano 15 nazionalità insieme, tutti intrecciati. Quindi io spero solo che prima possibile si trova questo accordo e non vedo l'ore, per questo anch'io effettivamente sono d'accordo con Andrea, quando tu, nel mio piccolo, io non sono politico, non so niente di geopolitica, quindi non potevo parlare e comunque era anche un momento delicato. Quindi anch'io sto aspettando, sto aspettando con il cuore in mano e sperando che prima possibile finisca questo incubo. Ce l'auguriamo davvero tutti. Un'ultima battuta, se ci eravamo detti altro, no? Che avremmo trattato anche altri temi, vedo però il prossimo speaker è lì pronto. Volevo fare un passaggio con voi su un tema che avevamo discusso con Natasha ieri e poi magari sentire anche la vostra su il rapporto tra le generazioni. Lo dicevamo anche questa mattina, un passaggio importante per la costruzione del futuro è mai come questa situazione attuale della guerra lo insegna, che è il rapporto tra le generazioni, tra madre e figli, tra nonni e nipoti è fondamentale. Allora siamo confrontati un attimo, no? Sì, stavamo parlando. Effettivamente, secondo me, oggi come oggi dobbiamo trovare proprio un nuovo equilibrio tra diverse generazioni, perché nel passato cosa succedeva? I padri, i nostri nonni insegnavano a noi, ai giovani, la vita. Adesso spesso e volentieri i nostri figli ci insegnano, perché sono i mostri nel digital, quindi sono avvantissimi, veloci, quindi io spesso e volentieri chiedo a mia figlia i consigli, lei mi insegna. Però essere bravissimi in Instagram, sì, sarà importante, ma è anche altrettanto importante sapere, che ne so, stirare una camicia o attaccare un bottone. Quindi dico solo che dobbiamo trovare proprio un nuovo equilibrio. Io di recente ho fatto Pechino Express, sono stata fortunata di averlo fatto con mia figlia, quindi è stata una bellissima esperienza, forse qualcuno di voi ci ha viste, eravamo due matte. Era difficilissimo, ragazze, ma la cosa più bella è che io ho scoperto proprio i lati nascosti di mia figlia, ci siamo riscoperte e ho capito una cosa, che questo nuovo equilibrio si può trovare e dobbiamo proprio farlo perché è giusto che sia così nel 2022, dobbiamo proprio trovare questo scambio, interscambio. Questo scambio probabilmente va trovato anche perché sono cambiati i linguaggi, quindi anche i linguaggi tra figli e genitori e probabilmente, Anna, anche nel mondo del cinema è cambiato il linguaggio oggi. Esatto, questo era un po' il mio tema. Io credo che sia cambiato soprattutto il linguaggio non solo del cinema, ma proprio il linguaggio dell'immagine. Prima eravamo abituati a tempi molto lunghi, tant'è che Alberto Sordi per primo diceva che il cinema è la vita senza i tempi morti. Quindi oggi noi vediamo serie, oggi noi vediamo i reel su Instagram, cioè alzi la mano chi di voi non ha passato almeno un'ora passando così avanti i reel uno dietro all'altro, perdendosi completamente, quindi passando minuti e minuti, ore e ore a guardare i reel. Allora, è sicuramente importante secondo me il dono della sintesi, quindi il dono dell'immagine impronta, la capacità di comunicazione rapida, ma non dimentichiamoci anche che siamo umani, come diceva Andrea. Noi siamo umani anche senza quel cosetto che guardiamo. Noi qui oggi siamo a un web marketing, quindi noi parliamo di questo, ma siamo anche esseri umani. Quindi possiamo anche ogni tanto metterlo via e respirare, dobbiamo ricordarci di respirare e non andare in ansia se non abbiamo il telefonino per 5 minuti. Cioè secondo me il calibrare, esserci al 100% in quel minuto, in quella ora, in quella giornata in cui siamo sui devices, ma poi esserci anche quando non ne abbiamo, avere le relazioni l'uno con l'altro, guardarci negli occhi, ci deve essere equilibrio. Tutti nella vita dobbiamo avere l'equilibrio e dobbiamo assolutamente creare in questo mondo nuovo, dove ormai la tecnologia è al di sopra di ogni cosa, l'equilibrio fra l'uomo e la macchina. Questo è un concetto fondamentale al quale secondo me dobbiamo pensare tutti quanti e dobbiamo pensarci molto bene. E tra l'altro hai quasi introdotto il tema successivo, però una chiosa finale la chiedo ad Andrea, visto che stiamo parlando di challenge, abbiamo visto il rapporto tra le generazioni, il linguaggio anche del mondo del cinema. Per quanto riguarda il tema della veridicità dell'informazione? Beh, la veridicità dell'informazione è un tema eterno ed è diventata ancora più importante adesso durante il conflitto russo-ucraino, perché ti devi muovere all'interno della propaganda, delle fake news, di ciò che sembra vero e non lo è, di ciò che sembra falso e magari è vero, quindi è estremamente complicato. E tutto è reso ancora più complicato dai social, dalla tecnologia, eccetera, che è un bene, ma anche c'è sempre l'altro lato della medaglia. Io però credo che in questi casi, Cosmadu, il discrimine sia sempre umano e riguardi quella che è l'onestà intellettuale. La mia categoria, e quando dico categoria non parlo soltanto dei giornalisti, parlo di coloro che scrivono, di coloro come me che a volte fanno anche teatro, quindi tutti coloro che hanno a che fare con la parola e con la scrittura, che hanno un microfono e che hanno un pubblico più o meno ampio di VASC a sentire, a vedere, ad ascoltare. La nostra grande fortuna e anche la nostra grande condanna è che le persone poi ti ascoltano, si fidano di te e ci credono. Io vengo dal giornalismo musicale, dalla critica musicale, mi sono laureato su De Andrè e su Gaber e mi ricordo che Ivano Fossati, che ha conosciuto bene De Andrè e che ha lavorato con De Andrè, rimase colpito da una frase. Stavano facendo l'ultimo disco in studio di Fabrizio, Anime Salve, quello che è uscito nel 96. Non riuscivano a scrivere un testo, ed erano due fenomeni, Fossati, De Andrè insieme, che non sanno scrivere un testo, ti domandi come è possibile. Perché non gli riusciva? Perché De Andrè era particolarmente esigente. Allora Ivano gli diceva, qui mettiamo questo aggettivo, e lui, no, non va bene. E sono andati avanti due settimane per un aggettivo. Fino a quando Ivano, che vi garantisco è molto esigente anche lui, gli ha detto, scusami, ma non è che forse stiamo esagerando nell'attenzione, e Fabrizio gli diede una risposta molto forte, perché gli disse, no, non abbiamo, e non stiamo esagerando, Ivano. Sai perché? Perché tutto quello che noi scriviamo adesso verrà creduto dal nostro pubblico. La gente poi ci crede. Se noi usiamo questa parola invece che un'altra, se noi usiamo questo aggettivo invece che un altro, poi la gente ci crede. E questo dà a noi una responsabilità enorme. Sempre De Andrè diceva, quando gli domandavano, qual è il tuo ruolo nella società, lui diceva, il ruolo dell'artista, cantautore, scrittore, quello che volete voi, l'artista, cos'è, secondo De Andrè? Era una sorta di grande anticorpo della società. Cioè l'artista, secondo De Andrè, si ergeva a eroe, che andava in trincea, faceva anche i suoi sbagli, si prendeva i suoi fischi, dava l'esempio, sbagliava, si rialzava, ma attraverso il suo esempio faceva sì che tutto il resto della società, osservandolo, aumentassi i propri anticorpi. Anticorpi nei confronti di cosa? Delle ingiustizie, del potere, del falso. Ecco, io credo che, mutatis mutandis, scendendo molti gradini da De Andrè, che è l'empireo a cose piccole come il giornalismo italiano, dovremmo ricordarci di questa cosa qua, che noi siamo un esempio, che noi abbiamo una responsabilità enorme e che quando noi scriviamo qualcosa, diciamo qualcosa, la gente ci crede. E questo deve dare a noi un senso di responsabilità e di serietà nel nostro lavoro enormi. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie anche a Natascha, grazie ad Anna. Grazie a voi.